Allora, l'Inter perde una partita che doveva e poteva vincere e perde questa partita l'Inter fondamentalmente perché gli interisti sono stati dei polli. E sono stati non solo dei polli, cioè ingenui, ma sono stati anche dei polli poi nella reazione isterica rispetto a un evento che avrebbero dovuto gestire enormemente meglio di come è andata nello specifico. Ci riferiamo al momento topico della partita, ovviamente, cioè quando rimane a terra Di Marco, quando l'Inter continua l'azione e voi direte sì, però loro non lo sapevano, Lautaro non se ne è accorto, ha tirato. Ma rimane il fatto che dopo questo sconto, che non è stato uno sconto drammatico di Marco, è stato tamponato, ha commesso pallo su di lui, il giocatore della Lazio, però insomma è stata una specie di blocco, niente di drammatico, di gravissimo. Di Marco rimane a terra e in realtà poteva rialzarsi perché si è visto che poi quando succede tutto si rialzava anche lui a partecipare a quella mezza risa con la Lazio. Ma soprattutto l'Inter prosegue l'azione e quando riparte l'azione della Lazio i polli nerazzurri o si fermano tutti, alzano le mani e dicono fermi, fermi, c'è un giocatore che sta malissimo in campo, nel dubbio, perché nessuno di loro sapeva se Di Marco stava più o meno male davvero o semplicemente indugiava un po' a terra, magari vedendo che era ripartita la Lazio, oppure corri come un pazzo e risolvi il problema, non ti fai beccare in contropiede così, perché non dobbiamo dimenticare che l'Inter sull'1-1, allora lo dicevamo prima, l'Inter tanto per incominciare stava dominando la partita, si fa rimontare su una partita ormai morta, finita, che stava giocando in maniera esemplare per un'ingenuità su un calcio di rigore, che poteva anche essere evitata. Dopodiché ricomincia a crescere, crea i presupposti per vincere la partita, è l'unica squadra in campo che davvero sta provando a vincere la partita e che cosa fa? In un momento di totale obnubilamento si becca un contropiede devastante con un uomo a terra, con i giocatori dell'Inter che o, ripeto, si fermano, si sbracciano, chiedono che venga interrotta l'azione, parentesi, questa però è una facoltà solo dell'arbitro, invece no. Uno, Skriniar, fa un mezzocenno che c'è un giocatore a terra, tutti gli altri si fanno beccare in contropiede, corrono in ritardo, prendono gol e anziché pensare immediatamente a ripartire, scatenano, a cominciare da Dumfries, che era quello più lontano, che non aveva visto niente, che voleva cercare una giustificazione al gol preso, scatenano una mezza rissa, escono completamente di melone, perché questo è il fatto, e perdono la partita, addirittura beccano anche il terzo gol. Allora, da una squadra matura, da una squadra forte, e l'Inter è sicuramente una squadra forte, e dovrebbe essere anche una squadra matura, ci si aspetta che vengano gestite diversamente proprio queste situazioni limite. Probabilmente anche Inzaghi, che poi ha detto una mezza verità o una mezza bugia. Anche Inzaghi avrebbe dovuto pretendere e imporre un autocontrollo superiore, perché qui stiamo parlando di una stagione importante per l'Inter. È una stagione che non può essere mandata alle ortiche per un momento di isteria collettiva. Diciamola tutta, quello che abbiamo visto dopo il gol del 2-1 è stata una sceneggiata che nessuno di noi al momento ha capito, e dopo aver visto il retroscena, fatichiamo ulteriormente a capire, ma si rendono conto i polli narazzurri che hanno rischiato di beccarsi magari due rossi alla vigilia di una partita come quella con la Juventus? Cioè, si può perdere così completamente la testa? Ripeto, poi non per un'ingiustizia drammatica, gravissima, ma per un fatto che in campo succede, che piacciono spesso e volentieri. E cioè, solo l'arbitro può interrompere l'incontro. Se la squadra avversaria tira dritto, tu devi correre e continuare a giocare con la testa sul pezzo, non è che ti puoi rilassare. E in effetti, l'Inter lo dimostrano le immagini del gol subito dopo, diciamo, l'infortunio di Di Marco, la caduta di Di Marco, fino al gol della Lazio, l'Inter comunque ha provato a giocare, ma erano tutti avanti, tutti distratti. E poi, dopo aver preso il gol, non hanno trovato nulla di meglio che dire tutta colpa dell'antisportività della Lazio. Io non credo che preparare una partita a livello professionistico contempli l'ipotesi che la squadra avversaria, che sta partendo in contropiede, se vede un giocatore a terra si ferma e butta la palla fuori, perché non lo fa quasi più nessuno. E tu devi essere attrezzato ad affrontare questa situazione. E proprio perché la situazione si verifica con una certa frequenza, magari va il capitano a protestare, magari vai a dire all'avversario che vergognati, ma non scateni quella mezzalissa che poteva portare alla decimazione della squadra in un momento così delicato della stagione. Quindi sono stati polli e colpevoli. Ripeto, polli perché sono stati ingenui e polli per la reazione da pollaio che c'è stato e che io trovo assolutamente inammissibile dopo il 2-1 della Lazio. Serve molta più maturità e serve che non ci sia l'autocompiacimento di chi prova a dire tutta colpa dell'antisportività della Lazio. E per questo anche va detto che in Zaghi ha detto che la mezza verità è una mezza bugia. La mezza verità è che i suoi giocatori sono stati ingenui, sono stati disattenti e che pretende più autocontrollo. E questo è vero ed è giusto. La mezza bugia è che questo episodio ha indirizzato la partita. Un episodio così può capitare, capita spesso e deve essere gestito diversamente da una squadra matura. Quindi malissimo nello specifico l'Inter, ma soprattutto è fondamentale che la squadra non ritrovi un nervosismo che è stato caratterizzante di anni passati che non hanno mai portato nulla di buono. E da questo punto di vista c'è molto da maturare. Il fatto che siano stati più nervosi i nuovi entrati la dice lunga. Cioè quelli che dovevano essere più lucidi. Abbiamo visto Dare di matto Correa, Lautaro. Pensate che Lautaro ha rischiato, se andava ancora avanti con quel suo atteggiamento, di beccare un giallo, magari un secondo giallo. Dumfries, che dovrebbe essere in quanto olandese abituato a un concetto un pochino più alto della competizione, che non deve scadere nella rissa verbale o in questi atteggiamenti, in questi spintoni. Davvero una scena brutta e una scena preoccupante per certi versi, che non va bene e deve essere fermata subito. Una deriva molto pericolosa questa dell'Inter. Venendo invece al Milan, oggettivamente da questo punto di vista va detto situazione opposta. Il Milan, diciamo, ha superato ogni genere di avversità, anche quelle che normalmente fanno dire a una squadra che va bene e basta, crollo, stasera non c'è niente da fare, ne riparliamo un altro giorno. Il Milan, che si presenta con tutti gli infortuni, malati, la mini-epidemia di Covid, a una partita così delicata, con un errore anche del tecnico nella formazione iniziale. Daniel Maldini non è evidentemente in grado di recitare quel ruolo, ancora giovane, ha bisogno di tempo. Il Milan vede anche Rebic infortunarsi, vede il Verona che con due azioni fa subito due gol, uno un calcio di rigore che si rivelerà per inciso oltretutto ingiusto, perché Romagnoli quello che subisce il fallo e ci si chiede a questo punto la VAR cosa ci stia a fare, perché dovrebbe essere l'unica cosa che può e deve fare la VAR, evitare una clamorosa ingiustizia. Vedendo da una immagine laterale si vede benissimo che quando Kalinic cade a terra perché viene colpito da Romagnoli, la prima scorrettezza la commette lui che per mettersi davanti a Romagnoli gli pesta un piede. Non se ne accorge l'arbitro e ci può stare, ma la VAR è proprio lì per questo tipo di situazioni ed è vergognoso che non sia intervenuta. Ebbene, malgrado questo il Milan ha superato tutte queste avversità, è riuscito a vincere una partita che sembrava una partita strapersa e questo la dice lunga sulla prima grande qualità che deve avere una squadra che vuole vincere e cioè il carattere. Questo Milan ce l'ha, magari non basterà per tagliare tutti i traguardi che sperano i tifosi, ma è da questo ingrediente davvero che si costruisce una grande stagione. A presto!